L'obbligatorietà del Green Pass, anche nei luoghi di lavoro, è una previsione sulla quale governo e sindacati si stanno confrontando, partendo da diverse, se non contrapposte, valutazioni. L'obiettivo di conseguire la piena ripresa in sicurezza e l'attività produttiva, intanto, si scontra con i dati e la campagna vaccinale. Sono oltre 2 milioni, numero approssimato per difetto, i lavoratori attivi che non hanno completato l'immunizzazione e molte altre centinaia di migliaia non hanno fatto ancora la prima dose. Numeri che si scontrano con la legittimità giuridica e costituzionale che vale anche per i luoghi di lavoro del passaporto anti-Covid, come conferma Doriana Bonavita, segretaria generale della CIS Campania. Noi fondamentalmente non siamo contrari in linea di principio all'allargamento del Green Pass, ma dobbiamo partire dai numeri di certezze. Siamo favorevoli a un rafforzamento della campagna vaccinale, ma vogliamo che la certificazione non sia comunque uno strumento per emarginare, per creare poi discriminazioni o comunque per sospendere o licenziare i lavoratori. Sarebbe un'altra cosa che sicuramente non ha niente a che fare con la tutela e con la ripresa delle attività a settembre. Non dimentichiamoci che a settembre dovremo tornare in classe, a settembre dovremo tornare ad avere attività non più in TAD, dovremo avere trasporti sicuri e dovremo avere un sistema di salute che abbia investito nel territorio. E io tutto questo non lo vedo, né in Italia né in Campania. Quindi abbiamo ben altri problemi rispetto a quello che attiene la responsabilità di chi si vaccina e chi non si vaccina. Fino a che rimane una scelta, in funzione della possibilità di scegliere, dobbiamo attrezzarci anche per chi non sceglie di vaccinarci.